Ciao, sono Luca e lavoro in Apulio Hotel da tanti anni e mi occupo di pronotazioni. Oggi sono qui per presentarvi la nostra offerta Ora o Mai Più. Sai perché abbiamo deciso di chiamarla così? Perché se pronoti ora avrai tutti i nostri servizi inclusi, al prezzo più basso dell'anno. Ma andiamo con ordine. Se pronoti ora avrai, oltre alla pensione completa, le bevande analcoliche durante tutta la giornata, presso i bar dedicati della struttura, avrai anche la garanzia vacanza sicura che ti permette di modificare o cancellare la pronotazione fino a 4 giorni prima arrivando indietro tutti i soldi senza doverci alcuna spiegazione. Anche le tessere club sono gratuite che ti danno accesso a tanti servizi come l'animazione durante tutta la giornata, gli spettacoli serali, la spiaggia e tanto altro. Avrai ombrellone e lettini in prima fila gratuitamente, potrai scegliere la tua camera, avrai un consulente turistico che ti aiuterà a scegliere la struttura più adatta a te. Insomma, tutto questo senza rischiare niente. Perché questo sarà il prezzo più basso dell'anno, garantito a Pugli Hotel, o ti rimborsiamo la differenza. Ma attenzione, perché questa offerta non ci sarà per sempre. Il tempo sta per scadere. Quindi ti ripeto, avrai il soft olinfusy, la garanzia vacanza sicura, l'ombrellone a prima fila, un consulente turistico a te dedicato, tutto garantito a Pugli Hotel.